Si sono svolti oggi a Genova i funerali di Franco Brigati, mancato improvvisamente a 69 anni. Nativo di Casale di Tornolo, grazie alla sua attività di camionista, aveva viaggiato molto anche all'estero, avendo modo di conoscere bene sia l'Albania che la Spagna. E grazie a queste conoscenze aveva promosso il gemellaggio tra il comune di Tornolo e Riola nel Valenziano, dando vita a produttivi scambi culturali. Un altro importante gemellaggio era quello nato, sempre grazie a Brigati, tra la società sportiva con piano calcio e quella spagnola ManiSense. Ogni due anni le società si affrontavano nel prestigioso trofeo della ceramica, giocando due partite, andata e ritorno. Franco aveva lavorato anche per la Caritas e lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Con lui viene a mancare un indispensabile intermediario nei rapporti con la Spagna, ma non solo. Mancherà, dice chi bene lo conosceva, la sua giovialità, il suo carattere è sempre pronto alla battuta e allo scherzo. Se n'è andato per sempre un uomo buono.